Con l'ultimo decreto Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato esteso l'obbligo di indossare la mascherina almeno fino al prossimo 31 gennaio e questa decisione è stata accolta da un vespaio di polemiche, soprattutto da parte di molti presidenti di regione, i quali hanno rivendicato l'autonomia di decidere autonomamente e quindi anche di poter decidere di non far indossare sempre all'aperto la mascherina. Io credo che su questo dobbiamo avere il coraggio di un ragionamento sereno. È vero che la mascherina è un disagio, è inutile che lo neghiamo, anche se il clima più fresco che sta avanzando ce ne sta facendo avvertire meno l'insopportabilità. Sta di fatto però che dietro la mascherina noi dobbiamo fare un ragionamento, perché ci viene chiesto di fare questo? Vedete, di solito noi pensiamo alla mascherina in termini difensivi, cioè io mi metto la mascherina per non ammalarmi. E questo certamente è un ragionamento che funziona, ma dovremmo farne un altro complementare che parte da una constatazione che il virus non è una bestia che c'è in giro, che viaggia così per conto proprio e che può finirci addosso. Il virus si attacca all'uomo, alle persone e cammina con le persone. E chi sono le persone che possono portarlo? Chi sono le persone che possono involontariamente seminarlo in giro? Possiamo essere tutti. Noi siamo i mezzi di trasporto del virus e nessuno può dire io sono sicuro di non esserne il mezzo di trasporto, nessuno lo pensa. Non lo pensano quelli che sono infettati asintomatici, non li pensano quelli che magari non sapranno mai di essere infettati, ma ognuno di noi potrebbe essere un portatore del virus, potrebbe essere la macchina con la quale il virus si sposta di qua di là, nei paesi, nelle case, nella città che noi frequentiamo. Noi siamo i mezzi di trasporto del virus. Allora credo che fare questo ragionamento ci serva per renderci conto che voler bene agli altri è anche indossare una mascherina. Essere rispettosi della salute degli altri, non solo dei nonni, essere rispettosi della salute degli altri è anche indossare una mascherina. È un atto di carità alla fine. Ripeto, non soltanto perché la mascherina è un modo per tutelarci, per difenderci, ma soprattutto perché può diventare uno strumento indispensabile per chi il virus non si propaghi grazie alla nostra presenza, alla nostra persona. Si dice poi che accanto alle mascherine si debba tenere la distanza sociale. Lasciatemi dire una volta con tanta forza, con tanta energia, che questa espressione distanza sociale mi dà un fastidio terribile. Perché un conto è distanza fisica, un conto è distanza sociale. Perché quando noi diciamo distanza sociale vuol dire che noi in qualche maniera prendiamo le distanze dagli altri. Le parole hanno sempre un valore performativo, cioè finiscono per creare una cultura. E allora parlare di distanza sociale in qualche maniera in genera che gli altri devono essere visti con sospetto. La distanza sociale mi dice attento perché l'altro è un pericolo. E sappiamo di episodi anche di violenza, di gente che si sono presi a botte perché qualcuno non aveva la mascherina, perché qualcuno era troppo vicino. Quindi vuol dire che con l'espressione distanza sociale noi creiamo un po' la cultura che gli altri sono pericolosi untori e quindi dei nemici. L'espressione distanza fisica è invece un'espressione molto più innocua. La distanza fisica mi dice che tu non sei un nemico. Mi dice semplicemente che tra me e te dobbiamo anche questo, tra persone della stessa famiglia, una certa prudenza ci vuole, anche frequentando i nostri parenti, i nostri nipoti, i zii. Un minimo di prudenza è distanza fisica, ma non ha nel frammezzo quel cuneo di sospetto che nasconde invece la parola distanza sociale. E' vero che noi portiamo le mascherine che coprono in gran parte la faccia con la quale noi trasmettiamo i nostri sentimenti, le nostre emozioni, però vorrei dire che in questo periodo combattiamo la pericolosa cultura della distanza sociale e anche nonostante portiamo la mascherina cerchiamo di non interrompere mai il dialogo con gli altri, che sia una distanza fisica ma non una distanza sociale. E quindi anche se abbiamo la mascherina indosso non neghiamo mai un cenno di saluto con la mano, non neghiamo mai un sorriso. Guardate che il sorriso si vede dagli occhi, anche se abbiamo la bocca coperta da una maschera. Sono gli occhi che raccontano se noi in quel momento guardando siamo disponibili, siamo sorridenti, abbiamo un atteggiamento di accoglienza o di rifiuto. Parliamo poi con piccoli gesti, con tutto quello che può essere significativo. Anche un piccolo gesto, anche un piccolo movimento della mano può diventare un modo per creare comunione. E vorrei andare verso la conclusione di questa riflessione ricordando che questo periodo è un periodo che ci domanda di risvegliare il cristiano che c'è dentro di noi e la carità che un cristiano deve applicare nella vita di tutti i giorni. Quando leggevo nei giorni scorsi la parabola di quel povero disgraziato che da Gerusalemme scendeva a Gerico ed incappò nei briganti, mi è venuto in mente che il brigante che abbiamo intorno a noi e che ci mette davvero a terra o con le spalle al muro oggi ha un nome molto preciso, coronavirus. Pensate a tutti i disastri che sta facendo, che ha fatto questo virus che sta girando per il mondo intero. E finire a terra vuol dire tantissime cose. Vuol dire persone che sono morte, pensate quante famiglie hanno più di un morto causato da questo virus. vuol dire persone ammalate, condannate a una malattia gestita da un punto di vista clinico ma senza più gli affetti intorno. Si muore da soli, si è ammalati da soli. Pensate cosa vuol dire poi quel brigante che ci butta a terra e sono portato a pensare a tutti quelli che hanno perduto il posto di lavoro quanti sono quelli che oggi non hanno il posto di lavoro che non sanno cosa portare a casa da mangiare. Pensate che terribile brigante che è questo. Pensate a gente che aveva appena iniziato con un'attività lavorativa che ha dovuto tirare i remi in barca far morire le speranze di un futuro nuovo perché buttati a terra chi ha dei debiti chi aveva fatto dei mutui della casa chi aveva fatto degli investimenti e che oggi non è in grado neppure di rimborsare di pagare il rateo di questi mutui che sono stati fatti. Ecco, questi sono i nostri fratelli che sono caduti sulla strada da Gerusalemme a Gerico e forse tanti di noi ci sono dentro tanti di voi che siete in ascolto in questo momento. Il Signore ci domanda allora in questa pandemia il Signore ci domanda di tirar fuori il cristiano caritatevole che c'è dentro di noi cioè renderci attenti alla sofferenza degli altri. Non basta in questo momento pregare e dichiararsi cristiani perché altrimenti rischiamo di meritare l'improvero che faceva quel rabbino a tanti suoi confratelli sacerdoti del Tempio a tanti altri rabbini quando diceva sono talmente intenti a parlare di Dio che si dimenticano che Dio esiste e che Dio esista noi lo dobbiamo ricordare con la tenerezza che non vuol dire che siamo in grado di risolvere tutti i problemi ma vuol dire semplicemente che tra noi e gli altri non ci sono distanze sociali casomai c'è un metodo di distanza fisica ma il cuore pulsa insieme con gli altri.